C'è solo un motivo per cui due come noi si svegliano con questo entusiasmo alla mattina. Tanta fuga elettrica tra l'altro. In Liguria questa è la nostra arma segreta. Vedrai! Allora, tu salera, puoi venire su? Accelera! Se volete la barca ce l'ho. Ma questa è la barca? Cioè non dico il Titanic ma almeno la scialuppa pensavo. Vedo la madonna! Ok! Ok! Rimpiamo anche quella di mecca. Quel cavallino! No! Non vediamo meglio! Perchè sta roba addora? Ma dove sono finiti? Vuoi un fiorino? Sì! Un fiorino! 5-4 euro! Volevi il pesce pescato tu? Volevi il pesce pescato? Volevi il pesce pescato? Senti ma secondo te la lenza la devo lanciare? Tu sei al massimo di essere spito? Eh? Non lo sono al massimo del fiatone. Cuore non lasciarmi proprio ora. No! No! No!